Strutture ricettive, musei, infopoint, sono loro a fornire i dati che vanno a fotografare un'immagine il più possibile completa del turismo cremonese. Tra quelli che emergono, i più rilevanti riguardano l'aumento delle strutture ricettive che fanno segnare un più 18 rispetto all'anno precedente e i visitatori con gli arrivi pari a un più 7% e i pernottamenti a un più 5%. Il dato che rimane invariato invece è quello della permanenza media che è di 1,7 giorni. Resta dunque un turismo mordi e fuggi, quello della città del Torrazzo, principalmente legato al fine settimana e soprattutto agli eventi in programma. Per quanto riguarda gli arrivi, nel 2018 i clienti arrivati nelle strutture provinciali sono stati i 221.891, il 61% italiani, il 39% stranieri. Anche i pernottamenti nel 2018 sono complessivamente aumentati del 5%, un aumento dovuto soprattutto ai cittadini stranieri che fanno segnare un più 12%. I clienti stranieri provengono per la maggior parte dalla Cina per il 40% e a seguire dalla Germania per il 9% e dalla Francia per l'8%. Il 74% dei clienti cinesi registrati a livello provinciale hanno soggiornato una sola notte in una struttura del Casalasco utilizzata come tappa intermedia per viaggi organizzati in Italia o in Europa. Per quanto riguarda le provenienze dall'Italia, nel 2018 quasi la metà dei clienti provenienti dalla Lombardia, il 42% e a seguire dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dal Piemonte, ha conferma che il turismo di Cremona è soprattutto un turismo di prossimità. Rispetto all'anno 2017, le regioni di provenienza dei clienti italiani non sono variate e l'aumento degli arrivi del 3% si è registrato soprattutto per la Lombardia.